Oggi vi faccio vedere come preparare la mia crema pasticcera super furba usando il microonde e sporcando una sola ciotola. Rompiamo due uova, aggiungiamo 150 g di zucchero, 50 g di amido di mais e mescoliamo bene con una frusta. Aggiungiamo anche 500 ml di latte, la vanillina e in ultimo la scorza di limone. Inseriamo la ciotola nel microonde, accendiamo impostando la temperatura a 750 watt e facciamo cuocere per 4 minuti. Passato il tempo tiriamo fuori la ciotola, mescoliamo con la frusta per qualche secondo e poi facciamo cuocere ancora 750 watt per altri 3 minuti. La nostra crema pasticcera è pronta, più furba di così!